Nel video di oggi vi mostrerò tutta la vera storia di Silvio Berlusconi e di come è riuscito a costruire un patrimonio da oltre 7 miliardi di euro. Ci sono molte controversie che hanno diviso per moltissimi anni il popolo italiano, in poche parole c'è chi lo ama e chi lo odia, ma in questo video andremo oltre le visioni politiche e le decisioni più o meno condivisibili che ha preso questo personaggio. Infatti ci concentreremo su come quest'uomo sia stato in grado di partire dal nulla per arrivare in modo anche abbastanza veloce ad essere uno tra gli uomini più ricchi e potenti del mondo. Detto questo cominciamo subito. La carriera imprenditoriale di Silvio Berlusconi ha origine al compimento dei suoi 25 anni. Fino ad allora aveva studiato e si era laureato alla facoltà di giurisprudenza con 110 lode e per raccimolare alcuni soldi faceva il cantante sulle navi da crociera e l'animatore, due lavori che gli permisero di capire come si intrattiene un pubblico e soprattutto come si crea un legame di fiducia con i propri ascoltatori. Subito dopo essersi laureato volle gettarsi nel mondo dell'imprenditoria per il semplice motivo che non voleva essere comandato da nessuno, quindi si mise subito alla ricerca di un mercato profittevole e decise di entrare nel mondo dell'edilizia. All'epoca suo padre lavorava presso una banca e proprio grazie a lui Silvio fu in grado di conoscere Pietro Canali, un noto costruttore che aveva già realizzato vari immobili sparsi per Milano. Berlusconi quindi preparò un progetto da proporre proprio a questo noto imprenditore, proponendogli l'apertura di una società. Come ho detto inizialmente però, Berlusconi non nasceva in un contesto ricco e i soldi necessari all'apertura della società furono presi dai risparmi per la pensione che aveva accumulato suo padre, che per la paura di non rivedere mai più quel denaro passò moltissime notte insonni. Berlusconi aveva solamente 25 anni, ma Canali decise comunque di accettare il suo progetto. Dopo una difficile contrattazione, Berlusconi riuscì a strappare un contratto che lo vedeva proprietario del 50% della società, cosa non scontata per il semplice fatto che non aveva alcuna esperienza nel mondo dell'edilizia né tanto meno delle contrattazioni. In seguito lui stesso dichiarò che Canali aveva accettato le sue proposte per la grande tenacia e grinta che vedeva in un giovane ragazzo che aveva voglia di diventare una persona importante. Nel 1961 quindi nasce ufficialmente la Cantieri Milanesi Riuniti. Qui Berlusconi dimostra fin da subito le enormi capacità da negoziatore e venditore, sia per quello che riguardava la comunicazione con i clienti che la pianificazione del marketing della società. Per esempio, durante la costruzione di una delle sue prime palazzine, decise di fermare i lavori e fare impermeabilizzare i primi due piani che erano stati costruiti. Dopodiché le arredò personalmente e li fece vedere ad alcuni potenziali clienti per mostrar loro come sarebbero diventate le abitazioni una volta finiti i lavori. In poche parole Silvio era in grado di vendere idee e visioni ancora prima che queste si realizzassero. Questo gli permetteva di iniziare a guadagnare ancora prima di aver finito il lavoro e di conseguenza poteva costantemente finanziare le costruzioni di nuove abitazioni. Berlusconi inizia da subito a guadagnare delle cifre molto importanti e dopo solamente due anni, quindi nel 1963, decide di fondare una nuova società in cui oltre al signor Canali erano presenti dei nuovi soci. Quindi nasce la Edil Nord. Fino a qui sembra andare tutto a gonfie vele per Silvio, ma ben presto le cose diventarono molto più complesse. Infatti negli anni successivi ricevette molti soldi da alcune holding prevalentemente svizzere attraverso una rete costituita come si fa solitamente per il riciclo di denaro sporco, ma il processo per cui fu chiamato in causa finì in prescrizione. Ancora oggi non si sa effettivamente se Berlusconi fosse colpevole, ma il fatto che il reato sia finito in prescrizione non significa sicuramente che fosse innocente. In ogni caso riuscì a sfuggire ad una situazione che avrebbe potuto mandare all'area tutto quello che aveva costruito fino a quel punto. Negli anni 70 Silvio Berlusconi è ormai un imprenditore molto conosciuto e affermato all'interno dei mercati edilizi di Milano e proprio in quegli anni, in cui c'era sempre più richiesta per ciò che riguardava l'acquisto e l'affitto di abitazioni, decise di avviare un nuovo progetto molto ambizioso. Nel 1969 infatti avvia il processo di costruzione di un grosso complesso residenziale con lo scopo di renderlo il più bello e tranquillo possibile. Tutto stupendo, ma c'è un grossissimo problema. In quella zona di Milano era allora presente un aeroporto e gli aerei che passavano di lì a bassa quota rendevano inabitabili tutte le case che stavano venendo costruite. Questo Berlusconi lo sapeva perfettamente ed infatti proprio per questo motivo riuscì ad acquistare i terreni su cui avrebbe costruito ad un prezzo stracciato. Ok, ha pagato questi terreni pochissimo, ma come ha potuto risolvere il problema del passaggio degli aerei? Dopotutto non poteva deviare le loro tratte. Beh no, lui non poteva di certo farlo, ma grazie a qualche aiuto all'interno della politica a questi aerei venne fatta intraprendere una nuova tratta. Infatti vicino a quei terreni acquistati da Silvio era presente un ospedale e dato che il rumore degli atterraggi dei decolli infastidiva ai malati fu semplice spedire un pretesto al governo che decise quindi di intervenire tempestivamente. Berlusconi ce l'ha fatta di nuovo, ha acquistato i terreni a prezzi stracciati, ci ha costruito sopra delle bellissime abitazioni e le ha rivendute guadagnandoci tantissimi soldi. In questo caso però Berlusconi non subì alcun tipo di processo, nonostante il fatto che probabilmente qualche mazzetta ad alcuni politici sia arrivata. Però è obbligo ricordare anche che per quei tempi non era una cosa del tutto inusuale, soprattutto per le grandi imprese. Così dopo qualche tempo nasce Milano 2, una realtà che accoglie tantissime famiglie in abitazioni ben costruite e molto piacevoli anche da vedere e visto che gli è andata bene una volta decise di rifarlo in un'altra zona vicino a Milano, creando questa volta Milano 3. È ormai diventato uno dei più grandi imprenditori lombardi, soprattutto per ciò che riguarda il settore dell'edilizia, ma a questo non gli basta, vuole creare qualcosa che gli permetta di raggiungere tutta l'Italia e non solamente la Lombardia. Berlusconi decide di spostarsi nel settore mediatico, decidendo di affrontare la tv pubblica, che all'epoca aveva ascolti in tutta l'Italia, mentre le tv private erano solamente piccole realtà locali e monetizzarle non era sicuramente un gioco da ragazzi. In ogni caso Silvio ci prova e grazie ad un po' di fortuna riesce ad acquistare una piccola azienda mediatica di Milano a prezzo quasi nullo. Infatti quest'azienda stava fallendo ed aveva molti debiti che Silvio decise di affrontare, forte anche dei suoi guadagni che ormai lo rendevano molto ricco. Quindi cambiò il nome dell'azienda in Telemilano e con il passare del tempo creò dei nuovi canali visibili e che esistono anche ad oggi. Questi erano Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Inoltre intorno agli anni 80 acquista tantissime televisioni minori sparse per tutta l'Italia perché voleva creare una sorta di monopolio all'interno del mondo dei media. Questo non era però possibile in quanto illegale, infatti non si poteva avere un bacino di utenze troppo vasto a livello nazionale e si doveva lasciare spazio alla RAI. Berlusconi però riuscì a deludere anche questo problema creando un sistema complesso. In poche parole i programmi venivano registrati e spediti a tutte le piccole emittenti locali di proprietà di Berlusconi in modo che allo stesso orario dello stesso giorno tutti gli italiani potessero vedere contemporaneamente lo stesso programma e tutto senza andare ad infrangere la legge. Infatti non esisteva un'unica azienda mediatica che proponeva lo stesso programma, erano semplicemente moltissime piccole imprese che decidevano in modo autonomo di far vedere lo stesso programma alla stessa ora, un po' come una buffa coincidenza. Ora Berlusconi ha in mano grandissima parte dell'utenza italiana che si sta abituando a guardare sempre gli stessi programmi agli stessi orari, ma a cosa serviva questo? Beh Berlusconi era una persona davvero lungimirante ed infatti era riuscito a capire come guadagnare all'interno dei suoi programmi inserendo numerosissime pubblicità, circa una ogni 20 minuti, arrivando a competere in modo molto diretto con la RAI. Inoltre fondò una nuova agenzia di intermediazione tra le reti televisive e le aziende che volevano apparire nelle pause pubblicitarie, eliminando ulteriori costi e creando sempre maggiori entrate. Oltretutto, creando molti più spazi pubblicitari, Berlusconi poteva venderli a prezzi ridotti rispetto a quelli proposti dalla RAI, diventando molto più appetibile anche per le aziende. Insomma, stava distruggendo la RAI sotto ogni punto di vista. Il giochino funziona per alcuni anni, dato che nell'84 le reti televisive di Berlusconi vennero oscurate, in quanto effettivamente violavano la legge. Queste censure però non durarono molto, in quanto anche questa volta, grazie ad alcuni aiuti politici, venne cambiata la legge e ciò che prima Berlusconi doveva fare con degli stratagemmi particolari era ormai diventato legale e a questo punto nasce Mediaset. Negli anni a seguire Mediaset si espanse anche in Francia e in Spagna, anche se solamente in Spagna riuscì a raggiungere un grandissimo pubblico, mentre per ciò che riguarda la Francia fu solamente un fallimento e solo qualche anno dopo dovette chiudere. Affermato anche il successo a livello mediatico, Berlusconi decide di entrare a far parte di altre grandi realtà italiane come per esempio Mondadori e già nel 79 aveva acquisito gran parte della testata giornalistica Il Giornale. Decise anche di entrare nel settore della finanza, diventando cofondatore di Banca Mediolanum, che ad oggi rappresenta una delle quote più grandi presenti all'interno di Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi. A questo punto Silvio Berlusconi ha un potere mediatico ed economico senza rivali e per continuare su questa traccia nel 1986 decide di acquistare il Milan. Anche in questa sua impresa ci furono degli episodi poco chiari, come ad esempio dei falsi in bilancio dovuti al pagamento di alcuni calciatori in nero o anche alla vendita della società sportiva nel 2016 per 740 milioni di euro, che però arrivarono a lui attraverso ad un'altra serie di holding del Lussemburgo, apparentemente per un ulteriore riciclaggio di denaro, ma non fu mai indagato per nessun reato. In ogni caso l'acquisto del Milan non servì a Berlusconi per il puro guadagno, ma più che altro gli fu utile per una questione d'immagine. Infatti investì circa 900 milioni di euro in questa squadra per cercare di renderla competitiva ogni singolo anno, anche se in molti casi finiva per chiudere il bilancio in perdita. In questi 30 anni la sua squadra riuscì a vincere tantissimi trofei e a raggiungere risultati che sono ancora oggi scritti nella storia del calcio e per quanto possa sembrare strano tutto ciò gli tornò estremamente utile in ambito politico. Infatti era riuscito ad ottenere grande notorietà, non esistevano persone in Italia che non conoscessero Silvio Berlusconi ed era ormai un personaggio che quasi tutti vedevano in modo simpatico, tanto che nel 1994 inizia realmente la sua carriera politica. Qui si presenta con un volto nuovo e pulito, affermando che in quanto imprenditore di successo non avrebbe bisogno di ricevere alcuna mazzetta e sarebbe in grado di gestire l'economia del paese nel modo più onesto possibile e per il bene dell'Italia. Nasce il partito di Forza Italia, che fu inizialmente molto apprezzato dagli italiani, anche se in seguito a vari scandali, soprattutto per corruzione, Berlusconi fu costretto ad uscire completamente dal mondo della politica. Dopo qualche anno però si ripresentò e nel 2001 riuscì a vincere la campagna elettorale con la promessa di abbassare le tasse, promessa che fu mantenuta in quanto furono abbassate di quasi due punti percentuali anche se solamente per un anno e negli anni a seguire alzò anche l'età pensionabile facendola passare da 57 a 60 anni. La sua carriera politica durò molti anni e fu piena di scandali e controversie, basta pensare alle numerose leggi ad personam che furono emanate e che casualmente servivano proprio a Berlusconi per evitare di scontare delle pene. In ogni caso nel mondo della politica fu amato da molti ed odiato da altrettanti, ma credo che l'aspetto politico sia molto personale e non voglio esprimere alcun giudizio in merito. In ogni caso finita la sua carriera politica si giunge a qualche giorno fa, ossia il 12 giugno 2023, data della scomparsa di Silvio Berlusconi che lascia dietro di sé moltissime aziende floride. Basti pensare che solamente Fininvest riesce a fatturare ogni singolo anno circa 4 miliardi di euro. Ad oggi la stima del suo patrimonio si aggira attorno ai 6-7 miliardi di euro, anche se è difficile capire realmente quale sia la cifra più verosimile, in quanto deteneva moltissime opere d'arte e tantissimi immobili. Sicuramente Silvio Berlusconi è stato un personaggio che ha diviso il parere degli italiani riguardo molti aspetti, ma indubbiamente è stato un grande imprenditore che è riuscito a guadagnare tantissimi soldi partendo da radici umili. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questo imprenditore, inoltre ricordati di iscriverti al canale e di mettere un mi piace per supportarmi con l'algoritmo di youtube. Grazie per la visione!